Le ricerche sono proseguite per tutta la giornata, ma ad ora nessuna traccia dell'uomo scomparso da domenica al Montorfano. È originario di Salerno, lavora e vive a Verbania. È ufficiale giudiziario presso il Tribunale. L'ultimo contatto telefonico risale proprio a domenica. Secondo quanto riferito lo scomparso, si trovava in cima al monte. Si apprestava a scendere dal sentiero azzurro. Poi più nessuna traccia o notizia. Le ricerche sono iniziate ieri sera alle 19. Impegnati il soccorso alpino, la protezione civile, i vigili del fuoco e la polizia per regolare il traffico. Sono iniziate dalla zona di Prato Michelaccio, tra Mergozzo e Gravellona Toce, da dove parte il sentiero e dove è stata trovata l'auto dell'uomo. L'allarme è stato dato dai colleghi di lavoro dopo due giorni che non lo hanno visto proprio sul posto di lavoro. Interrotte alle 23, le ricerche sono riprese stamattina anche con l'ausilio di due elicotteri, dei vigili del fuoco e della polizia. Impegnati pure volontari che hanno battuto i sentieri ma purtroppo al momento senza esito.